Per più di un'ora, Vigortrani Unione Calcio Biceglie è stata una gara da mettere in fretta nel dimenticatoio. Emozioni con il contagocce, giusto tre nel primo tempo, zero tiri in porta per 30 minuti della ripresa e un pareggio che sembrava scolpito nella pietra. Il risultato è rimasto tale anche dopo il 95esimo, con la differenza sostanziale che negli ultimi 20 minuti al gol dell'Unione Calcio la Vigora ha bozzato una reazione che si è concretizzata con il pareggio acciuffato sull'ultima azione possibile, ma anche con una scia di recriminazioni per certi versi legittime dei bicegliesi. La pareggite casalinga della squadra di Zin Follino, l'ultimo successo al comunale impolverato, visto che risale all'8 novembre contro il Castella Neta, si confronta con l'astinenza da gol nelle ultime quattro gale Coppa Italia compresa dell'Unione. La conseguenza quasi inevitabile è che nel primo tempo, subito dopo il lampo di Turitto, la cui conclusione dal limite viene deviata da Lullo, la partita si impantani nella sabbia del terreno di gioco. Servono 20 minuti per annotare il primo tentativo bicegliese, girata di Ferrante bloccata da Musacco, e in rapida successione la conclusione di dipinto che si spegne sul fondo. Il momento favorevole dei bicegliesi potrebbe coincidere con l'episodio dubbio del 32esimo, Ferrante finisce a terra in area di rigore, ma l'arbitro non ha dubbi che si tratti di simulazione da punire con il giallo. Prima del riposo, l'occasione per sbloccare la gara capita sui piedi di Fumai, ma Lullo è reattivo nella respinta. Episodio che sembra promettere una ripresa più vivace ed invece rappresenta una sorta di canto del cigno tranese. I padroni di casa per 30 minuti non arrivano mai dalle parti di Lullo, l'Unione Calcio aspetta il momento buono per colpire e lo trova proprio alla mezz'ora con una giocata di prima avviata dal Brizio e conclusa con il gol di Papagno. Per i bicegliesi finisce l'astinenza nelle realizzazioni, mentre la Vigor prova a reagire all'ipotesi di non riuscire neanche a confermare il risultato più frequente in casa. L'errore di Abrescia sottoporta su cross radente di Pinto però sembra essere la spia di un pomeriggio amaro. Dall'altra parte è Silla a non sferrare il colpo del KO con il colpo di testa in solitudine, fin troppo debole per impensierire Musacco. L'infortunio ad Anglani in pieno recupero costringe Di Corato ad inserire Mazzilli, ma provoca anche l'incidente diplomatico tra le due società. La Vigor non restituisce il possesso dalla rimessa laterale e tutto lo sviluppo successivo provocherà le proteste bicegliesi. Anche se passano due minuti prima che proprio Mazzilli perda una palla nella metà campo tranese, provocando la ripartenza dei padroni di casa e del calcio d'angolo dal quale nasce il gol del pareggio. Nella mischia davanti a Lullo a cavarne il gol che scaccia le paure della Vigor è Pinto, mentre all'Unione restano l'amarezza per la beffa di una vittoria sfumata sull'ultimo tiro.